Il 3 luglio torna lo storico appuntamento di nuoto e solidarietà dell'estate pinetese con il 14esimo trofeo di nuoto città di Pineto, organizzato dal gruppo Spatangus e patrocinato dal comune di Pineto, dall'area marina protetta Torre del Cerrano e dall'associazione Marevivo. Il trofeo, che appartiene al circuito Adriatica Acqua Libere di cui è promotore, avrà luogo nelle acque antistanti Ilidi-Santropè e Mirare-Colfù a Pineto fin dalle prime ore della mattina. La manifestazione vedrà quattro possibili percorrenze per dare ad un pubblico più ampio la possibilità di partecipare. La percorrenza classica dalla piattaforma Fratello Cluster Arriva, la percorrenza doppia andata in ritorno d'arriva alla piattaforma aperta solo a 25 nuotatori, la percorrenza denominata mezza di circa 3 km e la percorrenza 1500 sprint sotto costa. Quattro percorrenze, la più lunga, la doppia, 12 km circa e poi la classica, il percorso classico da sempre di 6 km, la mezza da 3 km e un percorso di 1500 sprint. Torna sempre più con la voglia di nuotare, di dire appunto quant'è la passione per lo sport e per il mare e il rispetto assolutamente per l'ambiente e per appunto gli abitanti del mare stesso. Abbiamo veramente atleti di tutte le età e soprattutto atleti che provengono da tutta Italia perché il trofeo di nuoto è conosciuto ormai a livello nazionale. Abbiamo anche la punta internazionale perché avremo un atleta tedesco. Non poniamo limiti di età ma assolutamente limiti che riguardano la possibilità di certificato medico agonistico, quindi poter gareggiare assolutamente in sicurezza. Un'edizione particolarmente sentita questa del 2021 che si svolgerà come sempre in sicurezza e nel rispetto delle norme anticontagio Covid-19, tanto da aver integrato il regolamento di partecipazione con delle specifiche a tutela della salute pubblica. Garantire a tutti gli 80-85 nuotatori che fanno le varie percorrenze, garantire a tutti la sicurezza di poter fare una nuotata in tutta tranquillità nel mare, con il blu del mare e con la serenità di poter nuotare tranquilli. Il messaggio di speranza vuole essere un messaggio di sport e solidarietà. Noi abbiamo l'aiuto delle capitanerie di Porto di Silvi e di Giulianova, abbiamo l'aiuto della Croce Rossa di Giulianova e abbiamo l'aiuto di tanti capitani privati che ci seguono e ci aiutano in mare per far sì che tutto venga svolto nella miglior sicurezza possibile.